Mister, giornata importante, vittoria del campionato, non è facile vincere da sobbentrato, però lei c'è riuscito ed è stato bravissimo. Sono molto felice per questo, ma più che a livello personale sono felice per tutta questa gente qui, perché l'eccellenza è una categoria che non appartiene a questa gente. Faccio i complimenti a questa gente, perché nonostante un passato così glorioso, hanno un'umiltà incredibile. Festeggiare un campionato di eccellenza in questo modo vuol dire proprio amare la squadra della propria città, quindi complimenti a loro, grande merito ce l'hanno anche loro. C'è stato un momento in cui ha pensato di non riuscire a rimontare il Sant'Agnello o è stato sicuro dall'inizio di poter vincere il campionato? No, un momento in particolare no, nel senso che sapevamo che era molto difficile perché avevamo contro una squadra molto forte che ha fatto un grandissimo campionato. 77 punti sono un campionato stratosferico. È chiaro che poi giorno dopo giorno ho cominciato a capire di avere a che fare con dei ragazzi che sono molto bravi tecnicamente. Bisognava un po' unirmi nella motivazione alla vittoria che era poi di tutti. Bisognava farli giocare un po' insieme, lottare insieme. Lì sono stati bravi loro e da quel momento in poi nella sosta natalizia ho pensato che potevamo anche farcela. Mister, un'ultima domanda. Il futuro resterà quando c'era? Ha già parlato con la società? No, non ho ancora parlato con la società perché avevamo un presente troppo importante che era quello di vincere questo campionato per cui eravamo tutti molto concentrati su questa cosa. Io penso che adesso, insomma, archiviata questa stagione con una bella vittoria poi avremo modo sicuramente di incontrarci, di chiacchierare. Mister ha tolto il cardigan portafortuna stasera. Sei andato da solo perché cammina oramai da solo, non lo sopportavo più. Direi faccio. Non lo sopportavo proprio più.